Beh, sicuramente è un punto di riferimento a Wiggins e Nibali. Io arrivo qua un po' sull'improvviso e vedo cosa riesci a farlo. Male non lo faccio, questo è sicuro. Come ti sembra questo caldo, questa tappa così calda sia di pubblico che soprattutto di clima? Oggi è caldo e non mi fa... io lo trovo comodo sul caldo, allora non mi fa fastidio. Un po' corso così a Nuovo Osso, cotto, questo mi fa un po'... mi spaventa un po'. Grazie.